A Girobignano, 1 Mancuso, 2 Cristofoli, 3 Valaschini, 4 Meneghi, 5 Battistella, 6 Boteon, 7 D'Alto Re, 8 Pontanile, 9 Cagli, 10 Sansoni, 11 Fattore, a disposizione con il numero 12 Dalcin, con il numero 13 Carone, con il numero 14 Dalbo, con il numero 15 Balvinocco, con il numero 16 Ademorschi, con il numero 17 Della Colletta, con il numero 18 Baggio. A Girobignano, San Martino Colle, numero 1 Cipriani, numero 2 De Martini, numero 3 Odo, numero 4 Stella, numero 5 De Zani, numero 6 Marco, numero 7 Della Colletta, numero 8 Donadale, numero 9 Soldani, numero 10 Pizzoli, numero 11 De Favoli, a disposizione con il numero 12 Bellotto, numero 13 Della Colletta, numero 14 Della Colletta, numero 15 Della Colletta, numero 10 e con il numero 16 Berri. slider Girobignano, indagazione con il numero 12 Della Torri, rouge, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.